Il nuovo filone del calcio scommesso in Lega Pro porta a scoprire nuove storie legate a tentate con Bin da parte di spregiudicati speculatori. E a tre anni dal caso di Simone Farina, che nel gennaio 2012 denunciò un suo ex compagno di squadra che gli aveva offerto 200.000 euro per truccare la gara di Coppa Italia Cesena-Gubbio, esce sul Corriere di Romagna un'intervista shock dell'ex difensore rosso-blu Umberto Semeraro, fino alla scorsa stagione di proprietà del Parma, ma in forza al Gubbio. Nell'intervista Semeraro, che oggi gioca in eccellenza romagnola dopo aver rescisso col Parma, fa rivelazioni shock. Rifiutai 100.000 euro per truccare due partite del Gubbio la scorsa stagione. Il riferimento è a due gare, Ascoli-Gubbio e il famigerato derby Gubbio-Perugia di gennaio 2014, finito 5-0 per i Grifoni, gare che comunque terminarono con punteggi diversi da quelli per i quali Semeraro era stato contattato. Il giocatore, nativo di Cesena e giunto al Gubbio dal Forlì, era stato infatti contattato via Facebook da uno slavo che gli aveva proposto di organizzare le due combine con alcuni compagni di squadra. Semeraro, che a suo tempo ha rivelato la vicenda all'allora di esse Gian Marioli, al tecnico Bucchi, ha rifiutato denunciando tutto ai carabinieri di Gubbio. Sulla vicenda però c'è stato sempre massimo riservo e solo oggi si conoscono i dettagli. Da allora però la vita del calciatore romagnolo è cambiata, è stato oggetto di minacce con la presenza dei suoi persecutori perfino a Gubbio e alla fine ha preferito rescindere e tornare a giocare nei dilettanti, ad appena 22 anni. Dal servizio, apparso sul Corriere di Romagna, viene detto che anche un altro giocatore del Gubbio venne contattato per altri tentativi di combine, ma anche egli rifiutò denunciando il tutto.